Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago sceglie all'unanimità Fiorenzo Rigoni come presidente. Asiaghese delegato del caseificio Pennar, Fiorenzo Rigoni condurrà anche nel prossimo quadriennio il Consorzio di Tutela, che riunisce 35 caseifici produttori e 6 aziende di stagionatura dell'Asiago DOP. Insieme a lui è stato riconfermato Vicepresidente Fabio Finco dell'azienda casearia Monti Trentini di Grigno, mentre continua a crescere la presenza femminile in consiglio con l'ingresso assieme alla Malghese e all'Orella Frigo anche di Barbara Dal Pozzolo.